52 provvedimenti di custodia cautelare emessi grazie alla richiesta della DDA di Messina, eseguiti dalla Questura di Messina, in particolare dalla squadra mobile di Messina per un'indagine complessa che ha consentito di disarticolare due gruppi agguerriti proprietari di una importante piazza di spaccio. Oltre mille cessioni documentate, arresti che hanno portato alla contestazione di numerosi reati che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al commercio di stupefacenti, allo spaccio delle sostanze stupefacenti, alle armi, al tentato omicidio, alle lesioni e al riciclaggio. Nel corso delle attività sono state sequestrate quantitativi di sostanze stupefacenti, le indagini sono state svolte anche grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia, ma per lo più grazie all'utilizzazione di complesse e delicate tecnologie che ci hanno consentito di entrare all'interno di un vero e proprio fortino che questi gruppi avevano creato. Si tratta di due gruppi anche contrapposti che dall'alleanza passavano a scontri violenti e di fatti sono stati contestati anche reati contro la persona, perché le indagini sono partite proprio dai ferimenti e dai tentati omicidi consumati nell'arco degli scorsi 4-5 anni.